Nell'ultimo decennio responsabilità dei governi precedenti c'è stato un depauperamento della sanità pubblica, un sottofinanziamento della sanità pubblica all'incirca di un punto, un punto e mezzo del PIL. Questo comporta una apertura al privato e quindi la costituzione di una sanità a due velocità, una ricca per i ricchi e una povera per i poveri, per le persone che non possono permettersi prestazioni a pagamento o mutue integrative. Ha avuto un'adesione di circa l'80% dei 2.500 medici marchigiani la giornata di sciopero nazionale proclamata dalle principali sigle di categoria per chiedere un adeguato finanziamento del sistema sanitario pubblico e il rinnovo del contratto di lavoro. Un terzo dei camici bianchi è stato però precettato per garantire i servizi minimi indispensabili all'interno degli ospedali, sebbene non siano mancati disagi ai pazienti, con esami e visite rinviati o posticipati. Un centinaio, in rappresentanza di molte sigle, tra cui ANAO, CIMO, FASSID, Ordine Psicologi e FP CGL, hanno manifestato davanti alla sede della Regione Marche. Sono stati chiusi ospedali pubblici e vengono convenzionate cliniche private. La seconda rivendicazione importante è quella del contratto di lavoro. Siamo l'unica categoria che è rimasta senza contratto, oramai da dieci anni. Le condizioni di lavoro sono peggiorate perché sono diminuiti gli organici, le incombenze sono rimaste sempre le stesse, anzi, se possibile, sono aumentate. Lista d'attesa, pronto soccorso e la modifica della delibera 1331 che riguarda la gestione dei centri di urni per disabili, con l'obiettivo di stabilizzare i precari, come è già accaduto per 1800 operatori, cercando risorse per nuove assunzioni e per finanziare la legge Balduzzi sul lavoro aggiuntivo, sono le priorità di intervento della Regione, illustrate dal consigliere regionale delegato alla Sanità Federico Talè, che ha incontrato una delegazione di scioperanti. Nell'ultimi due anni sono stati fatti delle assunzioni con l'attuale giunta regionale, però rispetto al passato siamo sempre in sottoorganico, anche in relazione ai servizi che sono stati attivati e alle nuove necessità di salute della popolazione.